Il mondo ha sempre avuto delle venature spaventose, ma da quando esistono le videocamere, quegli episodi sono diventati patrimonio comune. Le dashcam, le videocamere che si installano sul cruscotto delle auto, sono le prime a registrare fenomeni inquietanti o scene spaventose. In questo video abbiamo raccolto i filmati peggioni. Amazing! Woohoo! Numero 13. Ragno gigante. Molte persone detestano i ragni. Quelle che non li odiano probabilmente ne sono comunque spaventate. Immaginate quindi un ragno gigante che vi sorprende alle spalle quando meno ve l'aspettate. No, non c'è bisogno che lo immaginiate, perché questo filmato mostra il momento esatto in cui un ragno enorme tende un agguato a un poliziotto. L'animale cammina sul parabrezza della sua autocivetta con sicurezza e determinazione. Sembra pronto ad attaccare la sua frae degnata. Ma per fortuna è solo un'illusione ottica. Non c'è nessun ragno gigante mutante, ma soltanto un animaletto come tanti che è stato ingrandito da un effetto ottico. Il povero poliziotto sta comunque per essere attaccato, ma gli basterà un mignolo per difendersi. Numero 12. Pioggia di meteore. Una delle scene più inquietanti mai registrate dalle videocamere di un'automobile risale alla sera della caduta della meteora di Chelyabinsk, che ha impattato l'atmosfera terrestre nella regione di Oblast, a sud degli orali russi. La mattina del 15 febbraio 2013. Decine di videocamere nella zona hanno catturato la discesa della palla di fuoco nel cielo limpido dell'alba. Le immagini mostravano la stessa cosa. Un fascio di luce brillante che alla fine della corsa esplodeva in un lampo abbagliante. La meteora ha illuminato per chilometri la zona circostante, trasformando il cielo ancora buio in uno spettacolo di luci. Centinaia di persone sono rimaste lievemente ferite dai frammenti precipitati dal cielo, ma la caduta della meteora avrebbe potuto causare danni estremamente più gravi se non si fosse esaurita prima di toccare terra. Numero 11. Alberi Qualsiasi cosa è più pericolosa in Australia, inclusi gli alberi. E questo filmato lo dimostra. Era il 29 dicembre 2014, a Victoria, quando Madre Natura ha deciso di festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo a modo suo. La zona circostante è stata catturata in una tempesta di venti forti, e l'auto che ha registrato il video è stata colpita dai detriti in volo. Quando sembra che il peggio sia passato, Madre Natura torna a colpire sradicando un albero intero che collassa al suolo a pochi centimetri dal paraurti della macchina. Altri alberi seguono il primo, minacciando il guidatore, che per fortuna riesce ad abbandonare il veicolo prima di essere colpito. Se avesse mantenuto una velocità leggermente più sostenuta in macchina, sarebbe stato schiacciato dai tronchi. Numero 10. La vecchietta Questo è probabilmente uno dei video più spaventosi che vedrete. Solo quando sarà ormai troppo tardi capirete quello che stava succedendo. Il filmato si apre con una macchina che guida lungo una strada solitaria nel freddo della notte. All'improvviso una donna anziana che si regge in piedi a stento appare dal nulla sulla strada principale. All'inizio potreste pensare che stia tornando a casa dopo una passeggiata o un salto all'alimentare più vicino. Ma se guardate con attenzione, vi accorgerete che non ci sono edifici nelle vicinanze. La strada è lunga ed esolata, e la città più vicina si trova a diversi chilometri di distanza. Ma allora come ha fatto la vecchietta a ritrovarsi lì? Potremmo pensare che qualcuno l'abbia accompagnata in macchina fino a quel punto, ma che pro! Non ci resta che l'ipotesi che sia apparsa dal nulla come una vecchia strega. Numero 9. Blocco stradale. Mentre guidava lungo la New Jersey Turnpike a sera tardi, un uomo di nome Ivan Tuchtin ha accostato l'auto davanti ad un blocco stradale. Si aspettava di essere avvicinato da un poliziotto, quindi è rimasto in macchina ad aspettare il suo arrivo. Ma sulla scena non c'erano agenti. Davanti a lui c'erano due coni per il traffico, una macchina nera e un uomo vestito con abiti civili. Qualche secondo dopo l'uomo, senza proferire una parola, si è avvicinato all'auto di Tuchtin. Spaventato dalla situazione dubbia, il conducente ha superato il blocco stradale e si è allontanato di corsa dalla scena senza nemmeno guardarsi alle spalle. Il filmato è diventato virale e la polizia ha offerto una spiegazione plausibile dell'incontro. Dopo aver investigato la scena, gli agenti hanno realizzato che la macchina aveva subito una perdita di gas e che l'uomo aveva sistemato a terra i coni per non creare incidenti con le auto in arrivo. Numero 8. Il masso. Torniamo alle prodezze di madre natura, spostandoci a Taiwan, dove questo filmato ha ripreso il momento terrificante in cui un masso enorme è precipitato su una strada trafficata. L'auto in corsa si è salvata per un soffio e, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Dopo aver fatto visita ad alcuni amici in occasione del nuovo anno lunare, Kai Zhengliang stava guidando lungo la Suisha Highway, che da Hualien City lo avrebbe riportato a casa, a Taipei. Il suo viaggio è stato interrotto da un evento spaventoso. Mentre le auto, incluse la sua, guidavano sotto il costone di una montagna, un masso si è staccato dalla cima e ha fatto piovere una cascata di detriti sul suo parabrezza. Zhengliang ha frenato immediatamente e, quando il polverone alzato dai detriti si è dissipato, ha notato un masso di quasi 300 tonnellate a pochi centimetri dalla sua macchina. A quanto pare, le rocce, le montagne ripide e la pioggia non sono una combinazione favorevole per i guidatori. Ma Zhengliang ha avuto un enorme colpo di fortuna. Numero 7. L'incendio Il prossimo filmato dimostra chiaramente che quello del vigile del fuoco è uno dei lavori più pericolosi del mondo. Un incendio boschivo in espansione circonda due camion dei pompieri e un veicolo di assistenza, intrappolandoli in una nube di fumo nero che viene rapidamente sostituita da un muro di fiamme. Il video è stato registrato dal camion dei pompieri durante il catastrofico incendio di Pineri del 2015. Le fiamme hanno divorato più di 80.000 ettari di terreno tra le province di Balaclava e Roseworthy, nell'Australia meridionale. Per fortuna i pompieri sono riusciti a salvarsi usando gli strumenti ignifughi a bordo dei camion. Numero 6. Fulmine a ciel sereno I fulmini sono comuni durante gli acquazioni e le tempeste, ma nessuno se li aspetterebbe nelle giornate di cielo limpido e sereno. In questo filmato, registrato dal furgone di un uomo della Florida, potete vedere il leggendario fulmine a ciel sereno, che si è abbattuto su una palma senza alcun avvertimento. Come potete vedere, non stava nemmeno piovendo. Jonathan Moore stava lavorando a tampa quando la sua videocamera ha ripreso questa scena sconcertante. Il fulmine ha tranciato di netto un ramo dall'albero, alto 23 metri, facendolo precipitare al suolo. Nel cielo non c'era nemmeno una nuvola. Secondo gli esperti, non c'è alcuna spiegazione per questo fenomeno. Numero 5. Fantasma All'inizio questo video sembra la testimonianza di un semplice viaggio in macchina. Lungo la strada, in Malesia, il conducente sorpassa una signora anziana che cammina sul ciglio della strada. Qualche metro più avanti oltrepassa un'altra signora che indossa gli stessi abiti, cammina nello stesso modo e nella stessa direzione. La scena si ripete tre volte prima che il conducente realizzi che si tratta della stessa donna. È possibile che avesse trovato una comoda scorciatoia invisibile dalla strada? La macchina sorpassa la signora una quarta volta. La donna non sembra minimamente affaticata per lo sforzo di camminare alla stessa velocità dell'auto, ed è a quel punto che il guidatore realizza che c'è qualcosa che non va. L'uomo fa inversione e si allontana dalla vecchietta. Niente affatto interessato a scoprire il suo segreto. Per ora non abbiamo trovato una spiegazione plausibile per queste immagini. Numero 4. Fulmine Quando pensiamo alle tempeste, ci viene in mente il rombo dei tuoni e il modo in cui la terra trema alla caduta dei fulmini. Ma gli acquazzoni sono accompagnati da un terzo fenomeno temporalesco di cui non si parla abbastanza. I lampi. A pensarci bene si tratta di un fenomeno naturale terrificante perché porta con sé una quantità enorme di elettricità e di conseguenza può causare molti danni. A differenza del tuono che riecheggia per qualche secondo, il lampo dura un solo istante e per questo è più difficile da comprendere. Questo uomo ha catturato la potenza di un lampo in tutta la sua gloria durante un temporale. La strada è illuminata dai fari dell'auto, ma all'improvviso viene rischierata a giorno da un lampo che squarcia il cielo. Numero 3. Nella sabbia Quando si vive nel deserto, bisogna considerare alcuni elementi fondamentali. Il calore rovente, la secchezza dell'aria e la sabbia. I cittadini di Dubai sono preparati per questo tipo di ostacoli, ma non potevano immaginare che sarebbero stati travolti da una tempesta di sabbia di questa portata. Se pensate che sia una roba da poco, guardate il filmato girato da una persona che ha provato a guidare durante la tempesta di sabbia di Al Ain. È praticamente impossibile seguire la strada all'interno di questo vortice che ha trasformato la città in un deserto marziano distopico. Numero 2. Nella grotta Gli incendi boschivi di Santa Barbara del 2019 sono stati devastanti per la California. Sono iniziati con una fiammella nelle montagne di Santa Inez, ma in poche ore si sono estesi su una superficie di più di 2000 ettari, bruciando tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino. I video che hanno catturato i momenti peggiori degli incendi sono terrificanti, ma mai quanto il filmato girato dalla videocamera sul cruscotto di questa macchina, che sta guidando tra le fiamme. Sembra che stia letteralmente scendendo all'inferno, circondata dal fumo che abbassa la visibilità per i guidatori e trasforma il cielo notturno in una tavolozza grigia e aranciata. Il video sembra uscito direttamente da un film apocalittico, ma è reale e per questo ancora più spaventoso. Numero 1. Come un video musicale In cima al podio abbiamo un video che ci ha lasciati veramente senza parole. Forse il motivo è proprio ciò che succede nell'immagine, o forse il fatto che non esiste ancora una spiegazione per questa scena. Il filmato comincia con un'auto che guida ad alta velocità lungo una strada buia e desolata, ma che si ferma all'improvviso quando delle strane figure emergono dai cespugli. Le figure indossano abiti neri, hanno delle valigette e sembrano completamente fuori luogo. Alle spalle di quegli uomini misteriosi qualcosa esplode sullo sfondo. Poi una persona mascherata fa capolino dal lato sinistro della macchina. Il video ha scatenato l'immaginazione del web, con alcune persone che hanno ipotizzato che si trattasse di un attacco alieno o di una strana operazione mafiosa. La spiegazione più plausibile è che il filmato sia stato girato per un video musicale della band Radiohead, per una canzone dal titolo lunghissimo e impronunciabile. Quale di questi filmati vi ha spaventato di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.